Voglio chiarire una cosa, il Ministro Di Maia sa benissimo che Matera è in Basilicata, ci mancherebbe e anzi mi ha fatto la domanda perché conosce talmente bene che Matera è in Basilicata che mi ha chiesto che state combinando per sostenere lo sforzo di Matera Capitale Europea della Cultura e ovviamente io ho detto loro che i pugliesi hanno investito 2 milioni di euro quindi di più credo del finanziamento che prendono dall'Unione Europea per sostenere l'evento culturale in sé più tutto il finanziamento del raddoppio della ferrovia Bari-Matera per interconnettere la Puglia con la Basilicata che ovviamente è l'unica chiave di accesso a Matera perché arrivare dall'altra parte è molto complicato da potenza quindi l'ho rassicurato, gli ho detto anche però che vorrei collaborare di più sia con la Regione che col Comune quindi questa barzelletta che è stata messa in giro che il Ministro mi avrebbe parlato di Matera pensando che Matera fosse in Puglia è veramente una barzelletta anche abbastanza ridicola quindi non l'ho trovata minimamente neanche divertente anche perché poi dal testo io l'ho sentito e risentito non c'era nulla nella conversazione che si prestasse ad un'interpretazione del genere quindi siamo come al solito in quelle modalità politiche che poi provocano solo la confusione dei cittadini è una reciproca sfiducia noi siamo istituzioni, ministri, presidenti di Regione, sindaci noi dobbiamo essere sicuri che al di là delle nostre differenze politiche abbiamo tra di noi un rapporto di lealtà e devo dire che sia pure nella confusione di ieri siamo riusciti ad affrontare molti argomenti compreso anche il reddito di dignità perché è chiaro che il reddito di dignità della Puglia è l'unico reddito di dignità di massa presente in Italia